we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone dai bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi patch 9.10 tra pochissimo disponibile per il download ma già ragazzi abbiamo grandissime novità per quella che si preannuncia essere una delle patch più interessanti di questa season numero 9 alle mie spalle ragazzi punti caldi questo è il nome di questa specie di drone con un non lo so un cestino da picnic attaccato alcuni luoghi selezionati casualmente sulla mappa hanno una percentuale di bottino elevata con un aumento delle consegne di rifornimenti e questo coso ragazzi ce le mostrerà quindi molti più drop in alcuni punti della mappa 3 le nuove modalità a tempo limitato la sfida tra cecchini in coppie le squadre fuori magazzino praticamente si gioca in battaglie reali con le armi che sono state escluse dal battle royal e poi arriva ritorna incontri ravvicinati ragazzi fighissimo fucili a pompa e jetpack modifiche subito per un po di armi le bombe ombra innanzitutto ridotte dall 8 e 35 per cento il drop rate al 6,77 per cento quindi un po più difficile trovarli ridotte anche nei bottini da 4,65 per cento a 3,98 e attenzione perché i gruppi non saranno più da 3 ma saranno da 2 torna ragazzi il fucile di precisione semi automatico lo troveremo nei distributori automatici nei forzieri e nel bottine a terra ovviamente e attenzione il fucile pesante da combattimento raro ridotto nel bottino a terra dal 2,0 15 per cento all'1,4 e nella nei forzieri dal 2,18 per cento all'1,8 per cento alcuni bug corretti tra cui gli esplosivi telecomandati possono aprirsi e chiudersi assieme alle porte a cui sono attaccati le bombe ombra non restano più nell'inventario dei giocatori quando le cariche sono esaurite ad alcuni succedeva il fucile pesante da combattimento adesso infligge i danni ambientali appropriati quindi fixato il bug dei danni ridotti il rumore del condotto dell'aria scompare dopo che questo è stato distrutto la bomba ballerina impedisce adesso ai giocatori di effettuare lo skydiving quindi i salti un po' più avanti per quanto riguarda invece i punti caldi in ogni partita alcuni luoghi indicati uno garantito ma potenzialmente fino a tre saranno evidenziati con le lettere dorate quindi si capirà facilmente arrivano questi teletrasportatori di bottino che daranno armi aggiuntive di alta qualità abbiamo un 25 per cento di probabilità di trovare due punti caldi e un 5 per cento di trovarne addirittura tre durante una partita si rilascia con questi teletrasportatori un'arma di qualità rara o superiore insieme a due cariche di munizioni e hanno migliorato anche la reattività quando si equipaggia inizialmente per poter poi costruirgli intorno corretti anche dei bug sempre dove il cambio automatico di materiale annullava le costruzioni turbo migliorata però la collisione tra le trap delle trappole falò quindi il posizionamento dei campfire in modo a consentire ai giocatori di camminare meglio sopra i falò effettivamente ogni tanto ci si incrostazzava intorno migliorate anche le prestazioni per i dispositivi invece un po' più datati quindi anche se avete computer non per forza di ultima generazione anche in questa pace si migliorano le qualità grafiche in modo da poter girare un sacco di modifichi ai file audio l'avevamo detto ragazzi rimosso il segnale audio del deltaplano per chi plana verso un'onda d'urto la musica delle moto adesso è in stereo nel fronte ed ha aggiunto un nuovo effetto audio per il colpo alla testa più scudo quello che vi avevamo detto ridotta la velocità minima necessaria per attivare un effetto audio di atterraggio cambiate le diciture di ritorno alla lobby e abbandona la partita per quanto riguarda l'interfaccia utente il colore del danno che appare quando si subiscono i danni da scudo è stato riportato a una versione dell'originale con il colore modificato in modo che si possa vedere meglio un sacco di migliorie anche per i giocatori di mobile hanno sistemato delle opzioni sia in parco giochi che nel battle royale hanno corretto alcuni bug migliorata la qualità dell'audio per le cuffie bluetooth il contatore fps adesso appare a tutti la barra di caricamento delle interazioni finalmente non va più in senso anti orario insomma ragazzi un sacco di migliorie ma andiamo anche a parlare velocemente della modalità è fai centro quella con jordan siamo però ragazzi in modalità creativa metti in mostra le tue mosse nella mat fai centro nella by jordan ispirata a new york con gli artisti creativi not nella e tol molia esegui salti giganteschi macina le strade della city e raccogli monete per vincere ragazzi manda il tuo punteggio alle stelle con il bundle hang time che è quello che state vedendo alle mie spalle ottieni il costume green il costume clutch e un pacchetto sfide esclusivo per il set ragazzi cambiato anche invece per quanto riguarda la modalità creativa sono stati aggiunti dei nuovi temi di montagnole maledette aggiunte anche delle nuove isole creative e come al solito una lunghissima sfilza di update per quanto riguarda la suddetta modalità ecco qua intanto il tema di montagnole ragazzi hanno migliorato i tempi delle impostazioni per poter migliorare le partite la squadra sbagliata non può più essere dichiarata vincitrice di un round il piccone non oscilla più involontariamente quando si passa al telefono durante l'oscillazione o ad esempio le creature adesso possono muoversi attraverso le arcate del set del tempio della giungla hanno corretto i bug anche per gli strumenti della modalità creativa e del telefono ad esempio ora il telefono prende di mire i dispositivi barriera per l'eliminazione o quando si ruota un oggetto con il telefono l'asse non risulta più mancante mentre ci si trova sull'isola di un altro giocatore i giocatori non possono più distruggere gli schermi olografici senza averne il permesso 6 nuovi prefabbricati aggiunti tomba infestata macabre rovine dimora abbandonata di montagnole casetta sul colle forte pirata e tempio tomeito 5 le nuove gallerie la galleria di montagnole è la galleria oggetti di montagnole galleria natura di montagnole galleria oggetti tempio tomeito e galleria pavimento catacombe che presenta pavimenti di catacombi mescolati a sporcizia e fango quindi un tema molto macabro ma carino corretti ancora centinaia di bug l'erba non spunta più attraverso i mucchi di macerie aggiunta la collisione giocatore al tappeto nel maniero è possibile adesso fare copia in colla con l'angolo del bancone da tavola calda nella sede assicurazione ordinaria amministrazione insomma tante cose per quanto riguarda i dispositivi invece hanno aggiunto il dispositivo di potenziamento grind che consente ai giocatori di scivolare su qualsiasi superficie applicando ai piedi un effetto scintille bellissimo lo effetto dura 3 secondi 5 secondi 10 secondi 20 secondi in base all'impostazione che scegliete voi abbiamo come raggio di raccolta da 0 25 fino a 5 e hanno aggiunto anche il dispositivo unità cambia colore da adesso l'unità di pavimento che diventa del colore della squadra l'unità di pavimento diventa del colore della squadra del giocatore che la tocca un sacco di cose ragazzi io vi invito come sempre sono migliaia migliaia gli update anche su save the world arrivano piovono meteore una bella pioggia di meteore può davvero scuotere il mondo in questa nuova simulazione dei wargames arriva john c-rex il nuovo eroe nello shop e anche un sacco di interfaccia di modifica l'interfaccia utente di missioni e di tante altre cose vi invito ad andare a vedere ovviamente la patch note ufficiale sul sito di epic games vi ringrazio per aver guardato questo video noi ci vediamo alle 13 in live ciao